Piazza Alcide dei Gasperi, prima si era parlato di funicolare e sono davanti all'entrata della stazione della funicolare che va da Como a Brunate. La facciata è tipicamente montonara con legno scuro e mattoni rossi a vista, dalla parte opposta invece abbiamo il lago, quindi è abbastanza facile arrivarci, il biglietto comprato all'ostello costava 3,30€ per un'andata e ritorno, mi hanno detto che comprarlo qua invece avrei speso di più, beh non lo so, comunque sia il biglietto intero dovrebbe essere un 4,30€ e mezzo, comunque penso ne valga la pena, beh vabbè adesso entro punto e basta.